Brava, aprimi tu il cranio. Guardi che gopa c'hai, grande gopa, riposati, riposati, riposati. Mettiamo questa, mi sono fatto i cappelli un po' così. Dimmi adesso, cosa ti fa male? Tutto il corpo come prima ce l'hai? Guardi qui non c'è nessuno e quando non c'è nessuno come puoi fare essere forte. La base di nostro corpo è parte di qua, quei sono i nostri motori, la base è qui, ma un po' mi è rimasto un po' il vernice, è lungo questo corpo, 630 coppie di muscoli, è così, ah ragazzo che dici? Ce la facciamo? Lo sistemiamo massimo? Dai fai il viso, fai vedere il viso, ma tu i capelli non ti lasci crescere, non ti piacciono? Perché? Non ti piacciono neanche i capelli? Mi piacerò già averne. E non puoi andare da vedere se possono crescere? No, non mi interessa. Io senza capelli muoio, io senza capelli ci do tutto da avere i capelli, capelli è un'altra cosa. Così, guardi come è ricido, veramente. E tu dici non faccio niente, sta a casa seduto, e come mai i muscoli sono così? Vi puoi spiegare? E io che ne faccio? Io ti chiedo. Qui sono 630 coppie di muscoli, ce ne prendono gli appartamenti, ne prendono la salute, qui in Italia non c'è salute più, grazie. Perché c'hai grande pancia, quella pancia davanti che non c'hai muscoli che ti deve reggere, qui con il seto muscolare globale non ce l'hai, senza quelli muscoli tu non puoi andare dritto, per stare dritto, ecco vedi? Vedi dove i muscoli sono, sono rigidi i contratti. E come li faccio di aprire? Non posso, devo aprirti la schiena. Ecco il dolore, vedi dove è uscito il dolore? Qui sotto non lo so ancora, devo partire di qua. E tu hai detto che non fai niente, sia casa seduto, e come mai questa zona, tu ti fa male? Sei troppo piegato? Scusa, ma che fai a questo computer? Mica lavori, dormi con computer, fai lotta greco-romana. Non lo capisco, quella nuova generazione. Il computer da sfasciarti così, è grave, 22 metri, riscaldato, è bel caldo. Io ti devo aprire i tuoi muscoli, cazzo, come sono 630 gruppi di muscoli, ragazzo mio, vediamo come li apro, oh signore mio, qui è rigido, va bene, brava, vediamo, vedi come è collegato tutto insieme, come si è collegato, ecco fin qua, guarda, c'hai muscoli qua, perché non fai pressioni? 10 al giorno. 10 mattina, 10 pomeriggio, 10 di sera. Eccoti 30, io li faccio 36 insieme. Prima 40, adesso non voglio sacrificare, perché? Se tu fai troppo e il cervello ti dice non lo voglio fare, te blocca, te chiude, il cervello è il nostro computer, è il più grande computer che mi hanno dato gli extraterrestri. Tu sei di classe 70, 75? 72? 72? Ah, beh, lo stesso, 790, tu sei di indigo, i bambini, no, ho sbagliato, 90-100, no, ho sbagliato, tu sei rivoluzionario, arcobaleno sei tu, inventato degli extraterrestri, altri, così, capito che sei? Voi due siete di queste, tra 80, 82 hai detto. 82, tu sei dopo il gallo, 81 è gallo, 82, eh? Cosa, sei cane? Bene cane, sì cane cane. Va bene, guardi com'è rosso, guardi, veramente grande dolore c'è qui, dopo ci veniamo sotto, da aprire, io ti faccio colonna vertebrale da vedere, una gamba ti è dritta, una ti è storta, la vedo, mica fai 10 km qualche giorno, giorno sì, giorno no? ogni tanto, ogni tanto, ogni tanto, sì, perché vedo le gambe sono duri, non posso entrare, non sono tanti muscoli, 10 muscoli sulle gambe, ma a me è difficile, vedo c'è pompato queste muscoli, ma qui proprio, fratello, mi dispiace, dobbiamo lavorare qua, e non è andato bene in questo filmetto che abbiamo fatto, no? Il primo non è andato bene, il primo non è andato bene, va bene, non lo so che ti devo dire, eccolo, guardi, ecco il suo dolore, vedi? Ma tu reggi spalle quando ci compri? Per Natale ti compri? Compralo un reggi spalle, ma non quelle di, come si chiama? Amazon, come li vai a ordinare, qui ci devi vedere il negozio vicino all'ospedale Pescara, che devi provare su una maglietta, sono tanti tipi, e tu devi trovare uno che è adatto al tuo corpo, capito? Quello è importante, io guardo, vengo, tu vengo da lavorare, ma sono sempre con il cinta, ecco, devo vedere, io senza cinta non mi muovo, tutto è possibile, e ginocchieri, caviglieri, che è importante. Sì, ecco, alziamo questo perché... Ah, caspita, devo aprirti fratello, rilassati. Questo ragazzo prima lo dobbiamo rilassare perché è stanco. Ecco, sei esaurito un po', lo sai, con il tuo computer. Ah, madonna. Non so che fare, caspita. Ecco, dai, il computer ti sono andati i capelli, lo sai? Lo sai perché? No, no, scherzo perché tutti i giorni tu sei a telefono, il computer ti è un telefono pieno con, come si chiama, elettro... onde magnetiche, elettroonde magnetiche, che entrano in tuo cervello e te uccidono, ragazzo. Non dimenticare questo. Io quando vado a Sofia sempre mi faccio questa revisione di mia dottoressa, c'è il computer con i cosmonauti russi, e mi vedono da qui fino giù tutti gli organi e tutti i sistemi, come funzionano. Cosa non funziona mi si scrive, esce, scritto e io devo prendere provvedimenti. Se no, come ci vivi? Caspita, sei giovanotto. Sei giovane, veramente. Dai, se ne ha da aprire qui, guardi che bello. Te devo aprire. Eccoti qua, guardi, intercostale. Eccoti intercostale. Sendo giù. E caldo o ancora ci riscaldiamo? Che dici? Ancora 23,2. Ancora un po'. Zero, 23. Siamo arrivati a 23. Le gambe ancora non li tocco, devo lavorare sopra. Perché sopra non mi piace. Ehi, la ruccia. Guardi, guardi com'è riuscito, guardi. Madonna santa benedetta. Guardi. Prenditi la mascherina. Dopo ti dicono perché non porti mascherina, giusto? Vedi come ti è debole questa zona? Come entro, vedi? Profondo entro. Perché qui devi sviluppare i muscoli. Vedi? Ecco, vedi? Non ci sono. Non mi sento. Non mi piacciono. E' troppo debole. E chi ci legge qui sopra la testa? Aprivi tu il cranio. Devo entrare da scioglerti, da levare tutto negativo. Cosa porti? Vediamo se c'hai negatività. C'è qualcuno che ti porta negatività. Ma l'occhio. Aprivi tu il cranio. Bellissimo così. Massimo è un po'. Somiglia ad extraterrestri. Lo sai? Lo mandano. Sì, sì. Sotto al computer sta. Gli extraterrestri sono sempre al computer attaccati. Vediamo questo corpo da aprire. Ora salgo un po'. Da aprire i glutei. I glutei ti devo aprire. Vedi? Sui tuoi glutei. E ti apro qui sopra. Guardi le scapole. Le scapole sono rigidi. Molto rigidi. Non si apro niente. Io devo prenderti da qua. Guardi. Ti do l'energia. Tu scrivi. Non posso dire. Capito anche io. Come tanto chi ora mi vale. Da l'energia ad aprire questo ragazzo. Ma tu ti sei massacrato con questo? Guarda. 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 Bellissimo. Guarda. Ti faccio male? No. Bravo. Ecco. Intercostale. Passo dell'intercostale da aprire. Ecco. Questi sono i lunghissimi dorsali. Fino a qua. Dorsali. Lunghissimi dorsali. Qui guardi com'è debole. L'aria qui è debole. Molto debole questo ragazzo qui. Deve rinforzare. Per forza ti deve rinforzare. Ti prego. E' importante. Tu sei uomo. Deve rinforzare questo. Se no ti crolla tutto il sistema. Oh. Bene. Bene ragazzo. Bravissimo. Massimo. Guardi. Guardi guardi. Guardi. Guardi con le rosse. Tu sei tutto rosso lo sai? Dietro. Come un cangro. Perché quelle sono tutti dolori da cui parto. Longhissima dolore. A qui ti parte i trapezzi. non lo vedo tutto a pezzi o bene ti devo dire mi manca non lo scopro ecco qui ecco qui non lo vedo bene tutto a pezzi lo sopporti respiro e butta fuori butta fuori la goba la goba ti devo aprire guardi che goba c'ha la grande goba non mi piace bravissimo dopo ci ti dicono ci quella via e tardo a questo è il più bel massaggio che esiste ma poi con il corpo in altri paesi ti fanno con le gambe con i piedi volevo dire passi con i piedi o con il corpo più bel massaggio è in thailandese corpo a corpo è quello con sapone sono massaggi di di grande libera proprio massaggio massaggio esci dalla sauna o dalla piscina dalla vasca madonna con sapone ti faccio un massaggio bene ti saprano tutti i pori ti saprano tutti i tendini tu tu ti saprano e dimentichi il mondo l'interlandia lì è diverso ecco qua ti apriamo il tuo corpo qui qui si mi debole fratello non mi piace veramente qui il sistema tuo non regge e provoca i danni cerchi, guardi come entra tu a fronte riposti solo guai voglio dire guai 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 apri bellissimo ecco qui come sporge qua la parte destra come ti ho detto la gamba destra è più lunga è vero? non ti ricordi? destra se vede, se sente spengo, non ce la faccio non ce la faccio questo non mi piace veramente come è debole è venuto alle 7 la madonna lo senti? è entrato io ti ho detto che è troppo debole questa articolazione la caviglia ti è debole ti dovevi mettere questa roba che ti ho detto reggi la caviglia ecco guardi come è uscita guarda la cavigliera ti ho detto da mettere zack metto questo guardi che massa guardi che è il popaccio che dici? è pieno? con l'acido lattico? un po' un po' una porta discarmonia qua ecco così vedi? vediamo vediamo al massimo decotto dai al massimo lo devo coprire perché come è riscaldato non voglio perdere il suo sul calore sul calore oh così grazie da vedere le gambe tanti dolori con le gambe non tanto solo con la schiena è tutto qua io ti ho detto perché questo è dolore là grazie